Questa non è una strada, è un invito. Questo non è guidare, è controllo. Queste non sono condizioni difficili, non esistono. Ok, questo è ghiaccio. E quindi? Questa non è una trazione integrale. Questa è quattro. No, mi sono scusato. Non mi sono scusato. È un po' embarrassing. È molto embarrassing. Non mi prendo la carta. È andato a YouTube domani. Un belino. Non mi prendo la carta. Non mi prendo la carta. Non mi prendo la carta. È un 4x4? Non mi prendo la carta. Non mi prendo la carta. Oh no. Hai scusato la carta. Hooray! Non è ancora più difficile. Cuore! Molto male! Guarda! Guarda? Guarda! 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 Oh, è un'altra cosa! Oh, è un'altra cosa! Non c'è un problema! E uno da fame! E un'altra cosa! Non, è bene, è tutto per lo per il volo! E unro, non c'è la tiro! Ma non è! Non credo che lui può fuori... Non si se si scussi più o altro! Tempettura è una piazza! Tanti è un'altra cosa! Ci siamo un'altra cosa! Ciao